Radio Teatro, la radio che ti racconta gli spettacoli a Roma e i suoi retroscena, solo su Radio Roma Capitale. E come ogni fine settimana, eccoci qui a Radio Teatro da Radio Roma Capitale con Felice Sandroleo. Ben trovati a tutti, buon pomeriggio, ben trovato anche al nostro ospite di oggi, Filippo D'Alessio, direttore del teatro Tor Bellamonaca, benvenuto. Grazie, grazie a tutti, grazie a te gli spettatori. Ecco qua, allora noi oggi abbiamo scelto questo personaggio perché lui dirige un teatro, un teatro anche abbastanza importante, poi diremo anche perché è importante, forse ha una valenza un po' maggiore rispetto a tanti altri teatri, poi specificheremo anche il perché. Ho scelto di fare questo tipo di trasmissione questa sera perché mi piace anche valorizzare un po' la nostra città per quello che contiene, in questo caso un gran bel teatro insomma. E' diretto da due due gran bei personaggi, il nostro Filippo D'Alessio qui che è direttore organizzativo, mentre abbiamo avuto già in studio qualche settimana fa Alessandro Benvenuti che è il direttore artistico. Quindi insomma due bei nomi che riescono a portare avanti un gran bel teatro con due bellissime sale. Allora a te la parola Filippo ti chiedo subito, partiamo un po' dall'inizio, perché nasce questo teatro? Da dove è nata l'idea? Da chi? Beh la storia del teatro di Torbella Monaca è molto molto molto, di tantissimi anni fa, chiaramente noi conosciamo solamente la storia recente che è quella che parte poi dal 2006 quando il teatro era peristrutturato. Ma il primissimo seme della realizzazione di questo teatro a Torbella Monaca viene piantato nel 1985 in una riunione, in un'assemblea pubblica che facemmo con Renato Nicolini in via dell'archeologia a Torbella Monaca. E in quell'occasione si cominciava a ragionare di come l'estate romana che aveva avuto un grandissimo successo nel centro della città potesse in qualche modo raggiungere anche i quartieri più periferici. E in quel caso particolare raggiungere Torbella Monaca perché comunque era un quartiere che nasceva proprio in quegli anni, proprio tra il 1983 e il 1985. In quegli anni cominciavano ad andare ad abitare, a popolarsi da tutta Roma perché era una risposta comunque al grave tema degli sfratti. Quindi quello è il primissimo seme. Poi naturalmente tutte le vicende politiche storiche della città ovviamente non portarono alla realizzazione di quel progetto, però quel seme lì insomma rimase in qualche modo piantato ed è comunque diciamo così testimonianza di quello che poi oggi è la grande attività del teatro. Nel 94 Giunta Rutelli e Gianni Borgna decidono insomma di realizzare a Torbella Monaca la prima estate romana effettivamente. Quindi al 94 parte questa bellissima avventura che è appunto la presenza di iniziative culturali in un quartiere diciamo anche complesso, insomma come Torbella Monaca e quello che accade è una cosa straordinaria che sia per quanto riguarda le attività teatrali dell'estate romana, sia per quanto poi riguarda le attività cinematografiche che si realizzavano nel mese di agosto, cinema di raccordo, ci fu una partecipazione enorme, cioè parliamo anche di mille, mille e cinquecento, duemila persone a sera che frequentavano questa prima estate romana a Torbella Monaca. E fu un evento su tutta la città, tanto che il sindaco Rutelli e Gianni Borgna vollero diciamo così toccare con mano quello che stava accadendo e rendersi conto insomma effettivamente di quella grande intuizione che Borgna ebbe insomma di realizzare iniziative dell'estate romana. E succede che proprio quel grande successo di pubblico, quella grande spinta dal basso, quella grande necessità insomma che in quei luoghi la cittadinanza esprimeva, fa sì appunto che poi si decide, il Comune di Roma insomma decide all'epoca di partecipare al progetto Urban e quindi realizzare quella che era la ristrutturazione del teatro Torbella Monaca. Quindi quello che vediamo oggi appunto portarlo a quello full anno zero praticamente di questo... Sì diciamo chiude nel duemila, queste esperienze dell'estate romana, quello che era un salone all'epoca insomma chiude e viene poi appunto ristrutturato e riconsegnato alla cittadinanza appunto nel duemila e sei. Tra l'altro noi abbiamo anche altri esempi a Roma di questo tipo di iniziative, forse già nate da quel tipo di giunta, da quella giunta o da quelle che vennero subito dopo perché teatri di Roma forse è venuto fuori magari molto tempo dopo il teatro Quarticciolo, altri teatri diciamo di periferia ma dei gran bei teatri insomma. Beh successivamente a quell'esperienza poi nasce proprio insomma nella città l'idea di trovare, appunto di costruire, di implementare insomma altre strutture in altri quartieri e quindi poi nasce il teatro Quarticciolo nell'ex mercato appunto di Quarticciolo, nasce anche il teatro Il Samorante nell'Aurentino 38 che ancora ovviamente non è in attività e poi naturalmente tutta questa spinta in qualche modo un po' si esaurisce e quindi questo progetto che era un progetto che poi la giunta Veltroni in qualche modo abbracciava che era appunto l'idea di individuare diversi altri spazi insomma poi dopo la vicenda insomma un po' la conosciamo tutti la vicenda della città quindi in qualche modo quello rimane un progetto però sta di fatto che il Torbella Monaca diciamo così era ed è comunque l'esempio di un grande riscatto che passa proprio attraverso la cultura, il teatro e di questo insomma ne andiamo molto orgogliosi naturalmente parallelamente a questo c'è un'esperienza lunghissima insomma di attività teatrale che personalmente insomma con progetti ho realizzato poi in quel quadrante della città insomma da passeggiate teatrali a di Torrentore di piazza in piazza tantissime iniziative appunto che volevano toccare tutta una serie di luoghi lontani dal centro dove c'era questa esperienza di portare proprio nelle piazze insomma in questi luoghi attività teatrali tutto questo insieme di attivi di iniziative in qualche modo che mi hanno coinvolto poi ecco diciamo si mi hanno fatto acquisire quell'esperienza che mi permette oggi insomma insomma insieme al grande Alessandro benvenuti insieme a lui ma tu in particolare è vero cioè molti molti della zona ti annovano come il sintaco di Torbella Monaca perché diciamo questo lo sento ora la prima volta da ti però mi è stato mi è stato mi è arrivato già magari non con questo nomignolo però comunque il il personaggio è abbastanza importante è abbastanza quotato a livello di di cultura perché hai fatto molto per quella zona per Roma ma prima di tutto per quella zona quindi molti te lo riconoscono assolutamente poi certo è arrivato anche Alessandro ma lui diciamo si preoccupa della parte più più artistica anche se poi in un certo senso rientri anche tu in quell'ottica insomma ma il nostro è un felice sodalizio assolutamente quindi di questo ne siamo insomma felicissimi entrambe ecco di nuovo con voi felice Sandro Leo insieme a Filippo D'Alessio direttore del teatro Torbella Monaca bene allora abbiamo fatto un po' un preambolo per capire un po' la storia da come nasce questo fantastico teatro e una cosa che stavamo raccontandoci anche così privatamente è il bello che questo teatro nasce come teatro quindi ha tutte a tutta la logistica diciamo moderna per un teatro beh è un teatro nel senso che l'idea progettuale che ebbero insomma coloro che poi l'hanno immaginato era proprio quello di far sì che questa struttura diventasse un teatro vero cioè entrasse proprio diciamo così nella città ma anche a livello nazionale come è conosciuto proprio come un teatro quindi che non fosse diciamo una via di mezzo o diciamo una sorta di ibrido no no è proprio un teatro diciamo un bel teatro a due sale la Sagrande con gradinata praticamente l'altra più piccola da 100 posti no no questo assolutamente poi credo che sia il teatro più nuovo che è stato aperto a Roma diciamolo sì immagino di sì sì diciamo che no quarticciolo è aperto dopo è un po' più piccolino però insomma il teatro del Bellamone ha una bellissima struttura io la chiamo da sempre l'astronave perché insomma puoi guidarla insomma impegnativa è vero perché è una bella struttura grande insomma impegnativa e quindi insomma assolutamente fa la sua figura certo l'impegno alla guida di un teatro così importante fa sì che anche ci si sceglie dei collaboratori affidabili bravi no? ma guarda allora prima di tutto è il progetto intanto è un modello pubblico privato nel senso che noi siamo dei privati che abbiamo vinto un bando e gestiamo lo spazio pubblico quindi questo significa che noi abbiamo una grande responsabilità verso le istituzioni che ci hanno dato questo incarico e verso soprattutto i cittadini che sono diciamo le prime istituzioni quindi noi dobbiamo realizzare al meglio il nostro lavoro dare al meglio il nostro servizio culturale fare un cartellone all'altezza perché riteniamo che il servizio pubblico diciamo così che va dato ai cittadini e alla cittadinanza sia di altissima qualità e uno spazio pubblico vada gestito con grandissima attenzione dando il meglio questo è fondamentale questo è il primo indirizzo l'altra idea importante che poi già in qualche modo anticipo benvenuti nella precedente intervista è il teatro degli affetti non degli effetti questo è uno slogan che Alessandro Acconiato che sicuramente ha accolto nel segno quello che era diciamo così la missione insomma di chi poi andava di chi va, di chi interviene di chi andava ad intervenire in quel quadrante della città e poi questo diciamo così subito dopo è stato il presupposto fondamentale di immaginare questo come un teatro aperto c'è il teatro è un teatro aperto lo è fisicamente è aperto tutti i giorni dalle 10.30 fino alla sera le porte sono fisicamente aperte può entrare chiunque può chiunque entrare a chiedere ad informarsi sulla programmazione a chiedere in che modo si può partecipare a chiedere magari anche altre cose utili diciamo così alla vita quotidiana lì ce n'è tanta perché c'è il municipio, c'è la ASL quindi è un teatro insomma che è un punto di riferimento dal punto di vista proprio della relazione e questo chiaramente è stato diciamo lì la spinta propulsiva che ha fatto affezionare appunto i cittadini gli spettatori, il pubblico a questo teatro perché c'è proprio questa questa atmosfera di apertura c'è una grande attenzione c'è un grande senso dell'accoglienza c'è una grande educazione tutti gli operatori condividono diciamo questo spirito insomma di grande attenzione verso chi poi frequenta questo teatro ecco noi riceviamo per questo un contributo ovviamente dal Comune di Roma è denaro pubblico che va speso con attenzione per dare il servizio nel miglior modo possibile ma noi da subito abbiamo immaginato che anche il biglietto che acquista lo spettatore è denaro pubblico e quindi va reinvestito affinché tutto quello che può essere reso diciamo come proposta culturale come comportamenti come attenzioni anche come pulizia dello spazio funzionalità dello spazio deve essere tutto fatto con estrema attenzione perché appunto c'è un impegno forte delle istituzioni dei cittadini della città dello spettatore quindi persone insomma che ci danno che ci danno un importante incarico rispetto a questo incarico dobbiamo essere sempre pronti a rispondere con il massimo dell'attenzione entrando nel vostro teatro si può restare delusi della situazione romana almeno mi rifisco a Roma dei teatri voglio dire delusi non del vostro teatro ma del resto dei teatri perché il vostro teatro come tu hai appena accennato è curato dalla parte delle pulizie dalla cura della propaganda degli spettacoli perché si late sempre locandine libricini cose che pubblicizzano sempre i vostri spettacoli il personale stesso che accoglie sia il pubblico che gli artisti è eccellente e a capo di tutto questo il biglietto del teatro non è assolutamente caro allora c'è una politica la delusione è che io mi riferisco a altre situazioni entro in un altro qualsiasi teatro non trovo assolutamente nulla di tutto questo anche il prezzo del biglietto è superiore di chi è la colpa? ma no ma qui per quanto ci riguarda voglio fare un po' il cittadino cattivo per quanto ci riguarda è una scelta è proprio una scelta precisa cioè l'idea di avere una politica dei prezzi attenta comunque alla complessità insomma di un quadrante della città di un quartiere piuttosto di un municipio dove ci sono economicità diverse ci sono strati sociali diversi comunque questa è una scelta e io devo dire che su questa scelta e questo devo ringraziare pubblicamente tutti gli artisti tutte le compagnie tutte le grandi compagnie che condividono con il teatro di Torbella Monaca questa scelta questa idea cioè di sostenere una politica dei prezzi che permetta a tutti e soprattutto a chi ha meno possibilità di frequentare il teatro e di farlo diciamo così avendo l'opportunità di assistere a prodotti di grande qualità scelti con attenzione dove poi anche lo spettatore insomma in qualche modo viene accompagnato perché poi abbia l'opportunità di vedere anche cose nuove nuova drammaturgia attori giovani compagnie giovani l'idea dei due sale cioè il fatto di avere i due sale questo ci aiuta moltissimo anche in questo però ecco è una scelta precisa è una volontà precisa si crea praticamente una sinergia insieme alle compagnie insieme agli artisti cioè non c'è quello stacco tra il teatro tra la sala teatrale e l'artista o la compagnia che viene lì paga fai il suo spettacolo e se ne va c'è proprio un lavoro di squadra c'è questa affettività condivisa nel senso che comunque si condivide un progetto si condivide un obiettivo si condivide un'idea è quella che l'idea che comunque sia come artisti sia come cittadini sia come direzione artistica come direzione organizzativa come ha detto ai lavori cioè in qualche modo è un luogo dove si restituisce quanto diciamo così nel tempo poi comunque il pubblico magari di tutta la città o di tutte o di tutta l'Italia in qualche modo ha in qualche modo tra virgolette donato insomma appunto agli artisti o agli operatori o piuttosto quindi c'è anche questa volontà in qualche modo condivisa che quello è un'opportunità per restituire quanto di bello di importante in qualche modo tutti hanno hanno in qualche modo diciamo così guadagnato insomma il tempo ecco non solo in termini di materiali ma anche in termini diciamo emotivi insomma sentimentali di cose quindi ci sono queste idee di fondo che muovono questo teatro e questo ci ha permesso di creare un rapporto importantissimo con la comunità poi non abbiamo non ci siamo inventati nulla diciamo che i greci in qualche modo ce l'hanno insegnato cioè il rapporto il teatro vive se ha un rapporto importante profondo vero con la comunità e questo io credo che il teatro Torbella Monaca lo sta realizzando in modo diciamo importante e il teatro di Torbella Monaca è una realtà non solo diciamo di riferimento del municipio Sesto piuttosto che del quartiere di Torbella Monaca ma è ormai una realtà di riferimento della città di Roma ma girando per l'Italia quello che ti dicono è siete un caso nazionale cioè il successo di questo teatro comunque ormai ha superato ha superato appunto i confini della città di Roma e va in tutta Italia riconosciuto come un progetto che sta ottenendo dei grandi risultati e i numeri ci danno ragione in questo cioè noi in cinque stagioni abbiamo realizzato 220.000 presenze sì e siamo a Roma uno dei teatri più frequentati e questo ci fa piacere perché insomma è il modo migliore insomma per essere ripagati del lavoro e dell'impegno assolutamente ci fermiamo qualche altro istante e torniamo ancora qui a Radio Roma Capitale di nuovo Radio Roma Capitale con Sandro Leo e Filippo D'Alessio direttore del teatro Tor Bella Monaca parlavamo di numeri Filippo parlavamo di numeri perché e poi i numeri sono quelli che poi ci danno la risposta di tutto il lavoro no? e questi numeri sono abbastanza importanti beh i numeri sono importantissimi ripeto noi abbiamo realizzato in queste cinque stagioni 220.000 presenze in questa nella stagione diciamo così che si è chiusa a giugno abbiamo avuto un incremento di circa 10.000 10.000 spettatori anche questa stagione insomma ci sta riservando numeri importanti abbiamo insomma 300 alzai di sipario minimo 300 alzai di sipario a stagione insomma sono numeri importanti che definiscono quello che è l'attività del teatro e il ruolo che il teatro gioca in tutta la città considerando che poi abbiamo pubblico veramente che viene da tutti i quartieri di Roma cioè noi abbiamo pubblico che ci frequenta con regolarità dall'Euro piuttosto che da Montesagro Piazza Irnerio Monteverde e abbiamo anche tutta la cintura insomma da Frascati a Rocca di Papa piuttosto che San Cesario Zagarolo insomma Gallicano abbiamo tutta quella cintura est insomma della città quella grande diciamo provincia della parte provinciale della città che comunque frequenta il teatro Bellamonaca e poi abbiamo 280.000 persone che sono gli abitanti del municipio Sesto quindi fra un po' diciamo arriviamo a 280.000 e potremmo dire di aver portato a teatro tutto il municipio Sesto che comunque vede nel teatro un punto di riferimento importante e diciamo così proprio un elemento di riscatto insomma di una quotidianità insomma che non è tra le più facili è complessa però insomma sicuramente il teatro è un'occasione un'opportunità per appunto perché poi attraverso gli interventi culturali si può veramente si può davvero cambiare il mondo diciamo il mondo partendo anche da un piccolo quartiere piuttosto che da un grande quartiere o da una grande città bene la volta precedente tu accompagnasti anche il nostro Alessandro Benvenuti sei rimasto un attimino dietro le quinte perché ti volevo tutto per me in questa occasione grazie e anche l'altra volta portasti un bellissimo libricino forse riduttivo come si può chiamare no vabbè noi noi diciamo noi facciamo questi questi piccoli questi libretti questi libretti di programma molto belli molto curati si ha l'aspetto grafico degli elementi informativi perché noi vivo in una famiglia di grafici e ti devo dire che l'hanno già apprezzato veramente no perché riteniamo insomma che lo spettatore debba essere informato debba essere informato al meglio deve avere deve essere deve comunque partecipare del bello che in qualche modo la nostra esperienza come operatori culturali la nostra esperienza teatrale la nostra esperienza gestionale vuole fare insomma quello è il salotto bello di chi vive diciamo quel quadrante della città e deve essere e deve essere in tutte le sue manifestazioni diciamo così deve rappresentare questa necessità del bello e quest'idea che appunto insomma anche in un luogo complicato può esserci del bello e questo diciamo è un'idea di riscatto fondamentale che deve contaminare tutto certo a proposito di questo busco di questo libricino non ti sei accontentato di portarmi quello lì ma già ne stai preparando un altro insomma dove sarò coinvolto anch'io ci sarò anch'io sì siete in tanti stiamo preparando il nuovo libricino che vedrà la programmazione aggiornata da marzo a giugno noi abbiamo questo modo di operare insomma di informare continuamente di 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 integrare continuamente la programmazione di di farlo diciamo nell'arco della stagione diverse volte insomma manteniamo sempre un'attenzione reciproca insomma con chi ci frequenta proprio perché insomma riteniamo che questo sia il teatro debba vivere continuamente tutti i giorni e quindi non basta informare una volta solo ma bisogna continuamente insomma scambiarsi insomma con chi ci frequenta le idee i progetti i programmi e dare tante opportunità insomma andiamo sulla parte più di programmazione cosa cosa si prevede da qui a beh intanto l'appuntamento dal 28 da martedì 28 gennaio al primo febbraio con De Prudes con Carlotta Proietti e Gianluigi Focacci abbiamo avremo che avrete qui ospite a brevissima settimana esatto è una bellissima commedia veramente da non perdere abbiamo già diciamo così giovedì venerdì e sabato tutto esaurito e sono rimasti pochissimi posti martedì e mercoledì quindi anzi io inviterei appunto i radioascoltatori che sono interessati a chiamare a prenotare perché è una commedia da non perdere poi questo nella sala piccola nella sala grande invece dal 31 gennaio primo febbraio due febbraio abbiamo quegli strani vicini di casa con Caspar Capparoni Laura Lattuata Attilio Fontana e Cinzia Fornasier anche qui abbiamo il tutto esaurito nel senso siamo già in lista d'attesa e credo che a breve insomma cercheremo di aggiungere una recita vediamo se farla il 30 in serale oppure una doppia in pomeriggia sabato perché abbiamo tantissime richieste e a noi insomma ci piace sempre l'idea che nessuno debba essere mandato via quindi comunque dobbiamo sempre essere pronti organizzativamente anche a convincere poi anche le compagnie le produzioni delle compagnie ad aumentare le recite quando ci fosse una grande richiesta e spesso quando non riusciamo facciamo in modo di contattare gli altri teatri che ospitano questi spettacoli l'abbiamo fatto col teatro di Seu con cui abbiamo un ottimo un ottimo rapporto di collaborazione l'abbiamo fatto con la Cometa dove spettatori che non entrano al teatro di Torbella Monaca se appunto i teatri come il teatro di Seu il teatro della Cometa il teatro Parioli hanno disponibilità e sono disponibili ad accogliere il pubblico di Torbella Monaca che non riesce a vedere gli spettatori di Torbella Monaca perché non c'è posto allo stesso presso del teatro di Torbella Monaca noi li mandiamo da loro l'abbiamo fatto un paio di anni fa col teatro Parioli abbiamo dato 300 persone lo facciamo tutte le stagioni con il teatro di Seu l'abbiamo fatto ultimamente con il teatro della Cometa perché questo noi abbiamo un'idea che ci spinge in questa direzione che è l'idea di questa mobilità culturale che fa bene alla città fa bene al teatro di Torbella Monaca fa bene a tutti i teatri ma soprattutto ripeto fa bene al teatro di Torbella Monaca perché noi siamo convinti che poi dopo questo spettatore che vive anche di questa mobilità culturale di esperienze insomma anche in altri teatri in qualche modo torna a Torbella Monaca vi premierà in qualche modo esattamente torna a Torbella Monaca comunque diciamo volentieri perché sa che comunque c'è anche la possibilità di un servizio e anche di dare un rispetto ad altre iniziative ad altre realtà culturale non solo a proposito di programmazione volevo puntualizzare che forse per te è una cosa normalissima che è uno dei pochissimi se non l'unico teatro a Roma dove c'è programmazione quasi tutti i giorni della settimana compreso martedì mercoledì e giovedì sì noi programmiamo praticamente tutti i giorni dal martedì alla domenica è capitato qualche volta di programmare anche lunedì a fronte di progetti importanti come è stato furore con Popolizio il 16 dicembre lunedì tutto esaurito per cui noi non abbiamo difficoltà insomma qualora si presentino le occasioni ai progetti e soprattutto la qualità dei progetti ad impegnare tutta la settimana offrendo al pubblico insomma spettacoli musicali di danza piuttosto che proiezioni cinematografiche da scegliere ce n'è ce n'è da scegliere abbiamo una programmazione molto vasta insomma noi con Alessandro insomma quando si lavora e si immagina la programmazione l'idea di fondo è sempre quella di arrivare all'immaginario insomma dei tanti spettatori che ci frequentano dei tanti potenziali spettatori che ci possono frequentare e questo diciamo credo che sia la forza proprio del progetto di programmazione in qualche modo Alessandro determina che determiniamo appunto per far vivere questo teatro molto molto bello altre programmazioni importanti abbiamo ancora un po' di tempo come no abbiamo assolutamente appuntamenti adesso non ve li dico tutti perché sono talmente tanti abbiamo due immagini musicali uno a Francesco De Gregori e l'altro a Vasco Rossi ecco a proposito scusami ci sono molti eventi anche che riguardano la musica questo è molto bello perché il teatro si adatta molto la sala grande il giovedì sera è uno spazio che noi apriamo a progetti musicali ne ho citati due in particolare cito quello del 20 febbraio omaggio a Django Reynars con Giorgio Tirabbassi insomma sono progetti di qualità e questo noi lavoriamo insomma un po' da sempre insomma questo c'è quest'idea che insomma Torbella Monaca il giovedì insomma si può ascoltare della buona musica e questo è un'altra parte del progetto realizziamo anche in collaborazione con Santo Locex direttore del conservatorio degli appuntamenti musicali della domenica mattina insomma abbiamo tante abbiamo il teatro in famiglia tutte le domeniche pomeriggio nella sala piccola c'è questo progetto teatro in famiglia che vuole essere non solo un progetto di proposta di teatro adatto ai ragazzi ai bambini ai genitori ma anche l'idea di un teatro in famiglia che ha anche una sua economicità cioè che guarda le famiglie anche per permetterlo di frequentarci con assiduità non avendo diciamo così il peso di un'economicità diciamo così assolutamente importante e infatti noi c'è il famoso teatro in famiglia prevede un biglietto famiglia dove tutti sia i piccoli che i grandi pagano 6 euro e 50 è un progetto che va molto bene spesso dobbiamo raddoppiare la replica la domenica perché c'è una grande richiesta e poi che dire un altro appuntamento da non perdere 13 e 14 febbraio fondazione a comazzo per il teatro Antigone di Vittorio Alfieri ed è uno spettacolo di grande qualità una compagnia insomma importante alcuni spettacoli anche richiamano molte scuole questo spettacolo lo abbiamo proposto anche in mattinè insomma stiamo raccogliendo ora le adesioni quindi insomma siamo sicuri che andrà molto bene e poi insomma abbiamo abbiamo tanti appuntamenti abbiamo un altro spettacolo molto bello da non perdere che è Truman Capote questa cosa chiamata amore che sarà da noi il 27, 28 e 29 febbraio con Gianluca Ferrato abbiamo la gente di Cerami con Massimo Vermiuller e Anna Ferruzzo assolutamente da non perdere 28 e 29 il primo marzo e poi c'è chi è di scena con Alessandro Benvenuti un ritorno insomma di uno spettacolo che abbiamo già presentato qualche due o tre stagioni fa ma che già oggi quindi insomma chiude un mese e mezzo ed è praticamente tutto esaurito e quindi stiamo lavorando per aggiungere delle repliche e poi insomma Oliver Burger con Enzo Iacchetti e Pino Quartullo serata dedicata alla musica ce n'è davvero per tutti 19 marzo con i grandi classi del jazz e insomma ce n'abbiamo bene e poi marzo si chiude poi 27, 28 e 29 con un omaggio insomma a un romano diciamo doc appunto Petrolini Pallantini e Petrolini e il grande Pallantini e poi qualche giorno prima siamo per pubblicare ovviamente il resto qualche giorno di Pallantini comunque ci sarà Sandro Leo ci sarà Sandro Leo che lo metteremo alla prova per vedere insomma benissimo se merita diciamo così sarò molto il palcoscenico del Teatro Torbella Monaca molto emozionato grazie Filippo grazie di essere stato con noi da questa sera sappiamo qualcosa in più del Teatro Torbella Monaca ma non basta per saperne molto di più bisogna frequentarlo bisogna andarci bisogna vedere come funziona bisogna sa barcare il primo il primo centimetro del Teatro per capire bisogna respirare esatto quella 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 bella aria insomma che il Teatro Torbella Monaca in qualche modo riesce ed è tutto vero a creare quello che ci ha raccontato Filippo è la pura sacrosanta verità perché ho provato la stessa emozione io entrando in questo teatro Filippo grazie di essere stato con noi il tempo è volato mi ha divertito veramente ascoltarti è stato molto interessante e speriamo che ci saranno altre occasioni come no grazie a te grazie ai ascoltatori noi siamo disponibilissimi sempre quando volete insomma a venire a raccontarvi quello che succede nel più bel teatro del mondo come lo chiamiamo noi bene quindi da questa sera consultate il sito del Teatro Torbella Monaca andate prendete il vostro libricino telefonateci noi siamo aperti tutti i giorni tutti i giorni da lunedì alla domenica dalle 10.30 fino alla sera alla fine dello spettacolo prenotate soprattutto prenotate 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 perché spesso come ho già detto presentando alcuni degli appuntamenti è sempre esaurito quindi se noi lo sappiamo prima quanti siete oltre diciamo così le disponibilità cerchiamo di convincere le compagnie ad aggiungere delle recite in più di modo che tutti coloro che ci frequentano possano comunque avere l'opportunità di vedere lo spettacolo benissimo grazie allora ci fermiamo qui restitutiamo la linea a chi ce l'ha lasciata grazie Orlando Filoso alla regia e buon ascolto dei programmi che seguiranno a Radio Romagna grazie a tutti